Un tubo di 50 centimetri di diametro per riportare l'acqua nelle zone di Firenze in cui ancora i rubinetti sono a secco da quando il 25 maggio la voragine di 200 metri ha squarciato il lungarno Torrigiani a due passi dagli uffizi e dal Ponte Vecchio. È il bypass installato dagli operai che hanno lavorato ininterrottamente anche nel giorno della Festa della Repubblica per collegare le tubazioni rimaste integre ai margini dello squarcio e ristabilire il flusso dell'acqua. Questa è la prima fase importante. Contestualmente i nostri tecnici stanno già progettando le fasi successive per la definitiva messa in sicurezza di tutto il sottosuolo a ridosso dei palazzi e poi per realizzare questa grande palificata di cemento armato sotterraneo che serve come argine. Nel frattempo prosegue l'inchiesta aperta dalla Procura di Firenze per stabilire le responsabilità del crollo. Intanto le immagini dai satelliti analizzate dai geologi dell'Università di Firenze hanno chiarito che non ci sono stati movimenti di alcun tipo prima del 25 maggio escludendo in questo modo dalle ipotesi la causa naturale. Ora il radar resta puntato sulla spalletta e sui palazzi per captare eventuali nuovi movimenti.